Con piacere vi dico che è arrivato un amico della categoria degli agenti immobiliari e un'istituzione di questo Paese e del Governo, il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri, che invito a portarci un saluto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 È troppo facile vendere un immobile e trovare due al bar senza nemmeno avere tutta quell'iter procedurale di norme non solo fiscali ma anche altre norme che devono essere rispettate. Quindi questo è importante. Inoltre, lo dicevo già in un convegno che abbiamo fatto alla Spezia e le voglio ridire, visto che io oggi ricopro l'incarico di sottosegretario al Ministero della Giustizia, stiamo noi anche dal punto di vista tecnologico e informatico cambiando un po' anche il sistema delle vendite degli immobili. Noi abbiamo fatto tutta una serie di legislazioni guardando a tutelare il diritto di credito perché se in questo Paese noi muoviamo, tuteliamo il credito, il cittadino investirà perché se io ho un credito e so che il mio debitore non mi paga, che in tempi brevi potrò ottenere la tutela al mio diritto, è chiaro che sono più tranquillo nell'investire. E questo lo guardano non solo le persone che vivono nel nostro Paese ma anche gli investitori esteri. Quindi anche sulle vendite, e lo dico a tanti di voi che sono operatori del mestiere, da ieri è partito il portale delle vendite pubbliche. Dove noi invitiamo tutti i giudici delegati, tutti i delegati alle vendite a mettere in questo portale tutte le informazioni. E quindi io ho un immobile che è oggetto di una procedura esecutiva a Palermo, non deve saperlo solo Palermo, è vero che è già prevista la pubblicità sui giornali e tutto quello che prevede. Però vogliamo creare un mercato nazionale, internazionale, tecnologico e vogliamo coinvolgere anche gli operatori come voi, quindi nel capire come si accede, come funziona, quali prospettive. E così anche la gente di Milano può inserirsi in questo mercato rispetto a quello, come è giusto che si inserisca dove è l'immobile, perché comunque ci sarà più possibilità di vendita, di occasioni e anche di conoscenza. Quindi vi invito, e l'ho detto già in altre occasioni, a verificare questo portale delle vendite pubbliche online dove mettiamo anche e chiediamo più trasparenza nelle procedure di vendita per quanto riguarda le procedure fallimentari e di esecuzioni immobiliari anche nella fase della vendita. E' stato promosso quindi dal Ministero della Giustizia e vuole essere un marketplace unico nazionale. E' entrato in vigore ieri ed è il primo tassello di quel piano triennale anche sulla digitalizzazione che stiamo introducendo al Ministero della Giustizia ed è molto tecnologico, ma nello stesso tempo vuole generare un cambio di prospettiva per accelerare le procedure, perché in molti tribunali sono veloci, in altri sono lenti e si blocca anche il mercato. Quindi vogliamo che in questo portale siano pubblicati e messi in vendita i beni mobili e immobili, oggetto di tutte le procedure fallimentari ed esecutive, aperte sul territorio nazionale. E chiaramente magari il cittadino non sempre riesce ad accedere o comunque a capire, perché poi siete voi gli esperti del mestiere e quindi potete essere di aiuto nel diffondere e nel capire come si accede a questo portale. Questo è un esempio di coinvolgimento e di far capire come poi tutto quello che riguarda la vendita e l'immobile e non solo, comunque sia determinante nella vita di ciascuno di noi, non solo come prima casa, ma anche in tutto quello che riguarda i tempi della giustizia, la tutela del credito e tutto il contenzioso che si crea a volte intorno all'immobile. Quindi incontri come questi sono importanti per responsabilizzare da una parte, dall'altra però confrontarsi e far capire come il vostro lavoro sia percepito. Voi lo sapete nella realtà di tutti i giorni, ma anche chi rappresenta le istituzioni deve sottolinearlo e rivendicare l'importanza, la peculiarità del vostro lavoro, anche nella lotta contro l'illegalità, ma anche nella riduzione del contenzioso, perché più lavorate nel modo migliore voi e meno contenzioso si crea. E lo dico anche appunto, come dicevo prima, dall'esperienza delle aule di giustizia e dal contenzioso che ho visto per anni. Sulla legge, perché poi il tema oggi è l'antireciclaggio, sì l'obbligo che viene introdotto da questa direttiva è proprio quello di verificare la clientela, però noi non dobbiamo partire, nel nostro Paese molte volte si parte con la cultura del sospetto, non deve essere questo il motivo e la linea da seguire, dobbiamo cercare solo di far capire come siamo impegnati nella lotta contro l'abusivismo e ciascuno di noi si indigna nel vedere quello che fa tutto regolarmente, quello che invece ottiene gli stessi risultati a costo zero, capire come anche la professionalità e il ruolo dell'operatore e di tanti di voi cambi con questa norma. E quindi una clientela che comunque fa piacere anche a voi nell'ottica di capire il soggetto che avete di fronte, perché non deve esserci la cultura del sospetto, ma nello stesso tempo ci devono essere delle garanzie che voi date a voi stessi, al mercato, all'altra parte contrattuale e anche al sistema. E quindi alla tenuta. C'è tutto il tema poi di chi definire persona politicamente esposta, che però deve essere anche, sì, introdotta, ma dobbiamo anche dall'altra parte semplificare, perché non dobbiamo pensare che queste norme introducano solo delle complicazioni, ma noi dobbiamo guardare sempre alla semplificazione e alla meno burocrazia, perché molte volte è questo. E su questo io prima di venire qui, tra l'altro, ne parlavo anche col Vice Ministro del MEF, Casero, e parlavamo proprio di questo tema, e lui mi ha detto guarda che noi abbiamo istituito presso il MEF un tavolo dove fanno parte i professionisti e anche la Guardia di Finanza, la Banca d'Italia, proprio perché vogliamo che questo tavolo faccia emergere, alla luce di questa norma, le norme attuative da fare, in tema anche di semplificazione, e anche suggerisca delle proposte normative, laddove ci sia da modificare qualcosa. Quindi è una norma che non deve spaventare, deve responsabilizzarci, farci capire quanto sia importante nel sistema anche economico, comunque evitare che ci siano operazioni sospette e movimenti che possano appunto nascondere qualcosa di illegale, ma nello stesso tempo, anche oggi, se poi l'amico Righi e gli altri presidenti vorranno portare all'attenzione del MEF e anche del Ministero della Giustizia un documento che segnali le prime criticità, questo tavolo è la sede per lavorare e modificare quello che deve essere modificato, sia dal punto di vista di norme attuative che di norme primarie. Così come, devo dire, ne parleranno forse i relatori che interverranno dopo, le circolari che sono intervenute, conoscete tutti quelli della Guardia di Finanza, del 7 luglio 2017, quindi è recente, di qualche giorno fa, dove è stato detto dalla Guardia di Finanza in una circolare che le omesse ritardate o in complete registrazioni in archivio unico informatico o nel registro della clientela non saranno più sanzionabili, così come l'omessa istituzione dell'archivio del registro, l'abbrocazione tacita delle sanzioni, il decreto legislativo 90 2017, ha infatti eliminato ogni riferimento agli obblighi di registrazione e l'archivio unico informatico, in qualche modo prevedendo la liberalizzazione delle modalità di conservazione dei dati, però permane l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati che di fatto impone l'utilizzo da parte del professionista di un registro cartaceo e informatico attraverso l'ausilio di un software antiriciclaggio. Quindi da una parte si toglie e si chiarisce, dall'altra si dice ma comunque cerchiamo anche dal punto di vista tecnologico e dell'antiriciclaggio di modernizzare e adeguarci alla direttiva. Anche gli ordini professionali sono chiamati in gioco a questo cambiamento per cercare di dare una disciplina come organi di autoregolamentazione e come disciplinare le modalità di conservazione. Quindi c'è una circolare invece del MEF sulla gradazione delle sanzioni che segue la gravità delle violazioni. Anche su questo sapete che dalle condotte plurime e dalla dicitura ripetute sistematiche plurime gravi si è arrivata poi una dicitura anche diciamo più a una condotta meno grave per cercare comunque di porre l'attenzione seppur poi come sanzione sia ridotto in termini di quantità di somma da versare. Insomma ci sono tanti temi aperti sui quali c'è la disponibilità ad un confronto sia per quanto riguarda le segnalazioni tardive, le sanzioni, le definizioni e gli adempimenti tutti gli obblighi documentali perché ci sono degli obblighi documentali che preoccupano però è anche vero che da una parte abbiamo inasprito e cercato di intervenire nuove ipotesi anche sanzionatorie però dall'altra si è introdotto un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello del 2016 proprio su tutta una serie di adempimenti che sembravano solo formali e documentali quindi va vista secondo me a 360 gradi, siamo aperti comunque al confronto, non voglio rubare altro tempo perché comunque ci sono tanti relatori, il messaggio che volevo dare è quello sì a segnalazioni sospette, sì a gravità di comportamenti ma è una normativa che vuole punire e nasce proprio come antiriciclaggio, come lotta al terrorismo perché i terroristi si finanziano anche a questi ma non devono preoccupare il mercato quello diciamo spicciolo perché poi in tutte le cose ci vuole il buonsenso e quindi penso che l'attività quotidiana che poi molti agenti immobiliari fanno o la coppia, proprio ieri mi sono trovato in un'agenzia immobiliare dove c'era una coppia di giovani lavoratori che si accingevano a fare un contratto di locazione per un immobile e certo tutto questo tipo di attività non penso che debba preoccupare ma debba, anzi nella norma antiriciclaggio si guarda anche una semplificazione su tutta la serie di adempimenti quindi auguro a tutti buon lavoro per quanto riguarda il nostro ministero anche se quello poi più competente su queste materie è anche il MEF però parlando di giustizia siamo disponibili sempre a un confronto e anche a recepire le critiche per cercare di migliorare comunque buon lavoro a tutti quanti perché io credo fermamente nella vostra attività e anzi vi ringrazio per l'attenzione e la serietà che ponete nella maggior parte dei casi di fronte a tanti diritti dalla coppia che piglia la prima casa in locazione o l'acquisto della prima casa a tanti momenti della vita di ciascuno di noi quindi buon lavoro e grazie